ben trovati in questo video leggeremo insieme i capitoli 10 3 11 17 del libro del profeta zaccaria nel capitolo 10 viene introdotta la figura del re pastore che sarà ripresa e sviluppata nel capitolo 11 il cuore del capitolo 10 tuttavia è il tema del ritorno dall'esilio un ritorno che per giuda doveva essersi da poco verificato ritorno da babilonia doveva essere da poco avvenuto e nella popolazione era nata rinato il desiderio di una possibilità del ritorno anche da del nord di israele ovvero l'idea che anche israele potesse ritornare dall'esilio l'esilio che era stato causato dalla dominazione assira nel 722 avanti cristo che aveva disperso la popolazione e attraverso il ritorno un ritorno possibile desiderato da giuda israele potesse ritornare a unirsi con il sud con giuda e formare di nuovo una grande nazione come era all'origine della storia di israele questo desiderio viene descritto all'interno del capitolo come una sorta di nuovo esodo un esodo in cui il popolo viene tratto fuori dalla schiavitù della dominazione straniera e viene operato direttamente da dio passa tuttavia attraverso la possibilità del popolo di avere capi e governanti adeguati quindi non più persone che poste in posizioni di comando operano per il proprio tornaconto personale a discapito del popolo ma governanti affidabili forti saldi descritti con immagini quali pietra d'angolo piolo arco da guerra quindi una popolazione un popolo che ha governanti che fanno il bene del popolo tuttavia è il signore stesso che compie il ritorno dall'esilio questo nuovo esodo che diviene nelle immagini usate nelle parole usate descritto anche sotto forma di una lotta tra il signore e le forze del caos in particolare le immagini acquatiche relative all'acqua fanno riferimento proprio a questa lotta primordiale tra un dio che ordina e crea il mondo dando ordine al creato e un caos che è rappresentato appunto dalle acque che si contrappone all'ordine dunque il ritorno dall'esilio il possibile auspicato ritorno dall'esilio di israele è rappresentato con questi due elementi che sono tipici della storia stessa di israele da una parte un nuovo esodo dall'altra una nuova creazione il popolo che torna dall'esilio è dunque immaginato come una nuova creatura una rinascita una nuova creazione in cui il popolo stesso torna a camminare nell'alleanza con dio e permanere in essa in una rinnovata relazione con dio nel capitolo 11 invece si torna a parlare del rapporto tra popolo e dio nei termini del pastore e del gregge se nel capitolo 9 l'arrivo del re messia il pastore annunciato viene descritto con immagini di grande gioia d'esultanza quindi l'arrivo a gerusalemme nella gioia nell'acclamazione del popolo il capitolo 11 ci presenta una realtà piuttosto diversa poiché i capi del popolo sembrano non comprendere l'agire del pastore inviato da dio il racconto ci offre due immagini simboliche due azioni simboliche compiute proprio dal re pastore che hanno la finalità di far emergere la caparbietà del popolo e dei suoi capi i capi del popolo capi malvagi capi inadeguati opprimono e sfruttano la popolazione come pecore da macello tuttavia il popolo sembra non comprendere e sembra addirittura preferire questi capi che instaurano un rapporto basato sul profitto e sul tornaconto anche economico personale con il popolo mentre il buon pastore desidera instaurare un rapporto basato sulla gratuità sulla benevolenza sull'amore gratuito immagine dell'amore di dio i pastori malvagi sono quei pastori che tipicamente abbandonano il popolo nel momento in cui il popolo si trova nel pericolo e se da esso non possono più trarre un beneficio economico il buon pastore invece ama il popolo lo difende ne custode soprattutto nel momento del pericolo e instaura con esso rapporti di amore gratuito il re pastore che è immagine dell'amore che il signore ha nei confronti del proprio gregge viene così rifiutato incompreso allontanato e il testo mostra come la colpa di questa di questo allontanamento e rifiuto del buon pastore del re pastore non sia opera solo dei capi del popolo ma anche del popolo stesso capi e gregge cattivi pastore e gregge hanno uguale colpa nel non riconoscere e nel rifiutare il buon pastore l'azione simbolica che esprime questo è la rottura di due bastoni pastorali che il re pastore ha in mano e che vengono chiamati dal testo l'uno benevolenza l'altro unione la rottura del primo il bastone chiamato benevolenza rappresenta la rottura del rapporto con dio un rapporto che appunto si basa sulla bontà sulla bontà gratuita sulla benevolenza la misericordia che il signore ha nei confronti del popolo e che il popolo invece disconosce e rifiuta si spezza dunque il primo bastone il secondo bastone chiamato unità rappresenta invece il rapporto all'interno delle relazioni del popolo quindi con i fratelli con gli altri se il primo bastone si rompe non non può che rompersi anche il secondo non possono sussistere le relazioni con gli altri le buone relazioni con gli altri se non si ha una buona relazione con il signore la rottura della relazione con dio implica la rottura delle relazioni con gli altri la seconda azione simbolica che il signore invita a compiere al re pastore è quella di chiedere una paga per il proprio operato una paga che viene chiesta ai capi in questo caso ai cattivi pastori del popolo e che essi non tardano a quantificare il buon pastore viene pagato per la propria opera dai capi del popolo quest'azione simbolica rappresenta in modo quasi ironico come i capi tendano a quantificare l'amore di dio a dare un prezzo all'amore di dio e dunque questo salario che i capi malvagi danno al buon pastore rappresenta proprio l'incapacità dei capi del popolo di entrare nella logica di dio una logica che si basa sulla gratuità dei rapporti sull'amore spontaneo e gratuito e che non può essere monetizzato i cattivi pastori sono invece abituati evidentemente a dare un prezzo ai rapporti con gli altri all'amore e ai rapporti umani e questa differenza di logiche è proprio ciò che caratterizza i cattivi pastori e fa sì che anche il popolo non riesca ad entrare nella logica di dio rifiutando e allontanando il buon pastore e non capendo che non si può dare un prezzo all'amore quella che le pecore che il gregge ha ironamente chiamato libertà è invece il ripudio del buon pastore e si trasforma ad opera dei cattivi pastori in assenza di cura in avidità e in morte grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti